e ben a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo secondo episodio di Among Us oggi come nello scorso video ho messo 10 persone e 2 impostori però su queste 10 persone comunicherò con loro 3 Star, Rikes e Mattia poi però ci saranno anche altre 6 persone che non parleranno vediamo allora la prima partita, Crewmate ho cambiato lobby perché non entra nessuno però vabbè fa niente siamo sempre nei 4 ok il bianco va là oddio allora a me non dà la tasca da fare quindi il bianco poi ci ha messo anche un secondo per farla non lo so anche Star poi c'è il verde qui allora no però non posso non credo sia no il bianco e il rosa non tutti e due perché se no mi avrebbero ucciso tanto sono due impostori avrebbero semplicemente potuto farlo ok no e Star probabilmente si sta dando tutte le tasche che gli sta dando ok adesso ne ho due devo andare a fare la task spero che qualcuno vada dall'altra parte io ora vegliela faccio fare l'arancione ok si non credo sia l'impostore adesso andiamo a fare quell'altra ok no già l'hanno fatta allora a me non dà task vediamo qua cioè non dà task in tutte le zone in cui sono entrato non so se rischiano ad andare in electrical però ora mi faccio questa qua in admin quella là della scheda un cadavere chi l'ha trovato e dove? l'ha trovato Mattia allora ti dico c'era Ryan lì vicino ma penso che stava facendo la task mentre c'era il tipo ragazzi ragazzi allora io ho visto aspetta aspetta scusa io ho visto il bianco ok ah Star è morto io ho visto il bianco fare una fake task infatti è stata in navigation due secondi a fare una task che non è che sia così corta proprio da due secondi e c'era anche Star quindi l'ha anche visto lei però non so un acquittato non so chi votare parla a te Mattia che stavi dicendo per me è bianco per me nessuno io skipperei vabbè la skippo pure io perché è il primo round e skippiamo c'era Ryan vicino al corpo ma penso che stava facendo la task mentre c'era il killer esatto ho visto proprio che è morto allora vado a fare la task in O2 questa qua delle foglie che le devo mettere o buttare fuori praticamente ok non ce la faccio ok c'era Mattia che stava facendo la task qua in oddio in weapons però a me non dava le task mi sta seguendo secondo me è lui devo dire la verità attenzione cerco di andare dove c'è qualcuno ok qua potete restare sicuro perché almeno siamo in tre ma ipotizzando che fossero tutti e due impostori vabbè c'è un sacco di gente ok c'è una task qui no allora da fare questa qua qua sopra ragazzi è una tia perché si è fermato e quando si è fermato è partito la l'allarme quindi secondo me è lui ne sono sicuro vedete ragazzi manca è andato a fare la task quindi sono sicuro che sia lui l'impostore ok questo è più difficile rispetto a quella di prima e Rikes qui però non credo prima ha difeso Rikes ma non penso che sia Rikes cioè non penso che siano loro due gli impostori però sono quasi sicuro di Mattia siamo rimasti in sette o in sei non lo so e qua l'ha data l'altro impostore non Mattia e adesso vado in o due a fare una task c'è Rikes qua con me ma per me ragazzi Rikes non è ok 4-5-5 l'altro non è due è stata fatta cadavere abbiamo vinto allora chi erano gli impostori tra di voi era il bianco l'avevo visto killare l'arancione davanti e come abbiamo vinto scusate ha quittato il bianco mi sa che ha quittato il bianco perché ha visto che che vabbè che l'hai scoperto comunque io pensavo fossi te Mattia devo dire la verità di nuovo crewmate e due persone mi sa che hanno quittato quindi siamo otto comunque ragazzi allora nella partita di prima ricapitolando gli impostori erano il il giallo non mi ricordo quello prima il bianco forse non mi ricordo però in caso fosse il bianco in quel caso allora l'avrei azzeccato ok qua c'è il rosa qua un bel po' di gente c'è l'allarme comunque ok l'hanno fatto in elettrica sicuramente troverò qualcosa e l'arancione ragazzi è Pinocchio l'arancione l'ho visto che l'ha ammazzato davanti ai miei occhi ok però poi ha tipo laggato e è sparito o alle ac o veramente non lo so cioè oppure è passato per la ventola in qualche modo no no perché era davanti cioè dove si fa dove si fa la tasca in elettrica capito quindi la tasca dell'allarme quindi era all'inizio e non so tra l'altro una era anche uscita forse il bianco da elettrica prima che entrassi io adesso ho anche guittato comunque io vado arancione perché l'ho visto ha notato anche il viola non so perché vediamo adesso un impostore era lui infatti allora task dove in mad bay spero non ci sia nessuno ok vai use c'è un countdown ok fatto non scherzavo non l'ho finito ah il countdown è questo qua per diciamo per rifare la task in mad bay e aspetto qua così la rifaccio da un attimo un controllo qua in caffeteria ok rights poi viola quindi star allora comunque star non ha detto una parola quindi potrebbe essere sospetta ok ok perché c'è un rosso ma non capisco non la so fare questa task scusate clicco tengo solo premuto sul pulsante e basta rientriamo qua in caffeteria ok verdi poi rikes ancora niente arrivate in electrical spero di non trovare cadaveri anzi si no mattia sospetto ok rikes potrebbero essere anche tutti e due gli impostori allora se partisse un allarme sicuramente sarebbe mattia perché si è fermato però non lo so o sta controllando le task o boh io non rischio non le faccio elettrica le task provo a rifare quella in mad bay allora ragazzi è uscita star da qua dentro quindi in caso si trovassi un cadavere in una botola collegata a mad bay e secondo me sarebbe lei quindi vediamo quante security niente niente però non mi ricordo tutte le botole collegate a mad bay ok il verde no scusate non era security quella era electrical questa security ok allora rikes sta controllando qua allora se no forse sta facendo la task in mad bay star sicuramente visto che non si sono trovati i cadaveri o altro a meno che non sia passata dalla botola diciamo per fare una scorcia d'occhio così mi è passato mattia ok emergenza ragazzi non ho idea non ho veramente idea allora io vorrei escludere star e rikes perché rikes siamo stati un sacco di volte da soli e non mi ha ammazzato e star perché era uscita da mad bay e credo che avesse fatto la task poi ho avuto il sospetto per star un attimo però non sono sicuro di nulla però io ho detto la partita non sta andando avanti e penso che no io star i ragazzi però l'ho vista anche poco quindi potrebbe essere passata da botola a botola che veniva in admin perché io sono sempre al pannello di controllo secondo me ha fatto un self report allora aspettate no super s ma non credo abbiano ammazzato qualcuno chi hanno ammazzato scusate il giallo a lui chiamato l'epoca eh infatti aspettate ragazzi non votate perché voti mattia tu prima sei sei passato davanti a me e mi avresti potuto uccidere alla fine quindi non so però però aspetta no no sei sospetto perché tu hai detto self report e quindi votarci che te abbia ucciso qualcuno e capito e poi abbiamo colpato nessuno ma io voto a mattia non lo so non lo sappiamo se prima eravamo in serie io ti ho votato niente ragazzi non non è uscito nessuno perché tutti a un voto sono sono capitati ok le tasche dove vanno fatte ancora in elettrica una fatta oddio questo dura una vita spero non mi ammazzino c'è mattia qua oddio no ragazzi è lui ha chiuso la porta oddio no potrebbe essere lui vabbè non approfitto per fare la tosca ma tanto secondo me è lui ve lo dico beh sono uscito vivo e la porta è stata chiusa due volte quindi potrebbe essere lui e credo mi stia facendo pensare che lui non è ok star è uscita dal gioco non so se per un diciamo no un bug un un problema di connessione di connessione non so che cosa fatto sta che ora non c'è più emergenza e perché da tua allarme mattia io sinceramente non ho sospetti su di te io io sinceramente ho sospetti su di te aspetta aspetta e ditemi una cosa quanto dura diciamo la chiusura della porta per quanto rimane chiusa ditemi questo in che senso e allora perché io sono stato in electrical con mattia e la porta si è chiusa però siamo rimasti un bel po' e almeno chi non l'abbia chiusa due volte non lo so fatto sta che aspetta mattia a te stavi in electrical e non hai fatto le tasche si le ho fatte no non le hai fatte ma guarda mi mancava una tasca le ho fatte si in electrical ci sono sempre state magari te le avevi già fatte raga io vado il super super s super s ah l'impostore è uno è uno perché era pinocchio scusate è vero io oddio no aspettate ragazzi vai vediamo super s tanto due voti speriamo ragazzi spero veramente che non sia mattia ok vediamo è lui vittori mamma mia siamo stati bravi comunque spero che questo video vi sia piaciuto due vittorie su due da crewmate la prima un po' meno bella però la seconda secondo me è bellissima io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo in un prossimo video bella ecco